Buongiorno a tutti ragazzi io sono Lachitalia e oggi inizieremo una nuova serie Siamo sempre su The Joy of Creation ma quest'oggi siamo su Reborn Sostanzialmente da quello che ho capito dovremmo affrontare gli animatronici singolarmente C'è Freddy, Bonnie, Chica e Foxy Io direi di iniziare con Freddy Allora io mi sono un pochino documentato Però non ho mai giocato veramente a questo gioco Quindi non so proprio benissimo come si gioca Da quello che ho capito e sto leggendo anche in alto a sinistra Sostanzialmente noi abbiamo un minuto per collezionare 5 oggetti Senza farci penso già muschierare da Freddy Il problema sostanziale è che dove sono questi maledetti oggetti? Dove si trovano? Abbiamo 27 secondi raga Secondo me perderemo questo primo livello Cioè questa prima partita la perderemo già Ok lì No 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 porca trota Corri 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 zio corri vai più veloce Corri vai Vai zio grande ammazzo dovresti fare il maratoneta zio Vai più veloce grande Raga abbiamo 3 secondi E penso Ok penso che abbiamo perso Questa strana sensazione sapete Ok penso che Freddy si stia avvicinando Comunque io non capisco quali siano gli oggetti da raccogliere Un porca vacca non sapevo che fosse lui Muoviti zio muoviti Porca miseria Ragazzi nuova corsa nuova vittoria Cerchiamo questi maledetti oggetti Anche se io non ho idea di dove si trovino E di cosa siano soprattutto Ok allora lì c'è Freddy quindi mi conviene Correre via Raga io non capisco quali sono gli oggetti raga Che cavolo di oggetti ci sono Porca miseria anche il bro qua dietro che mi insegue Annaggia lui E ho perso Ho perso Si fatti già mi scelare bravo Ma porca vacca questo teoricamente è un oggetto Perché non me lo fa prendere Non me lo fa prendere raga Ma porca miseria perché Porca miseria Ok raga ho capito Con è prendo gli oggetti Con è porca miseria Saperlo prima Stavo sclerando ragazzi Io premevo il tasto sinistro del mouse Invece con è Ok allora ragazzi È possibile vincere Ora mi do soltanto impegnare Dovevo trovare gli altri quattro oggetti Lì c'è Freddy perché vedo la sua luce E arriva da sotto il pavimento Cioè da sotto il pavimento Da sotto il muro Qualcosa mi dice che Non hanno fatto Uh il secondo Oh eh ho perso Dai Dai vieni Freddy dai Che mi voglio ammazzare Vieni Freddy Dove sei Freddy? Freddy? Dai vieni dai Ti faccio arrabbiare che ti illumino Freddy di M Ti prendo a ceffoni Ok ragazzi Ora che so come prendere oggetti È molto più facile Perché prima io scleravo Perché non riuscivo a prendere gli oggetti Ora è una passeggiata proprio Salve Ok qua forse un oggetto Sì dai E mancano tre oggetti ragazzi Dai Dai no lì c'è Freddy Muoviti Corri 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 Run 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 No prendi l'oggetto Prendi l'oggetto Grande grande Dov'è davanti a me o dietro? Ok no penso sei dietro Sapete Muoviti Muoviti zio Corri Mazza dai che lo driblo Lo driblo malissimo raga Un oggetto raga Manca un oggetto Manca un oggetto E possiamo andare a cagare Freddy Manca un oggetto Dai muoviti zio Muoviti Dov'è l'ultimo oggetto però? Dove si trova? Eh Ho 14 secondi Qualcosa mi dice che mi devo muovere a trovare l'oggetto Muoviti zio Muoviti Raga ma sto girando in tondo? O mi sbaglio? No ho 14 No eh ho perso dai Dai vieni tanto ho perso Eh Porca miseria Più difficile il previsto È molto più difficile il previsto Allora lì c'è Freddy Quindi mi combi Ok un oggetto preso Grande Due Corri 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 Ah basta che prendo 5 oggetti casuali Ok E ne mancano due No 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 Non di qua non di qua Muoviti zio vai più veloce Grande zio Grande Grande Dai 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 Che lo dribblo male pure Eh 23 secondi Mancano due oggetti Eh A trovarli però No eh Che cavolo Non posso accendere un attimo la luce Che subito arriva sto qua Cos'è l'uomo nero? Ok un oggetto 12 secondi Muoviti zio Dai 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 Dov'è l'ultimo oggetto? 6 secondi Eh porca miseria Uno mi passa Eh ho perso di nuovo Ho perso di nuovo Ma io giro in tondo È per quello Dov'è poi freddi? Dove si trova? Eh qua forse c'era qualcosa Eh Forse si Boh Vabbè ormai Dai vieni freddi che voglio farla finita Vieni Guardate come si arrabbia Se li illumina la luce Se li illumina la luce Che ho appena detto? Si accendo la luce contro Allora dai Mi devo muovere Eh questa è una speedrun Eh ok qua non ci sono oggetti Chiaramente la pentina non è considerata oggetto Per con essere vivente Ovvio Penso che ci siano delle presenze indesiderate fuori dalla finestra Però io non trovo niente raga Lì c'è freddi Allora è meglio correre via Eh che cavolo però Annaggia Annaggia Che poi manco mi fa morire Ora io devo cercare freddi per ricominciare Cioè veramente Dov'è freddi? Dov'è sei zio? Dov'è? Dov'è finito? Ah dov'è quel mostro? Cioè quando Quando non lo voglio Oh eccolo Vieni dai dai Un pinguino raga Altro che orso Un pinguino Vedete come cammina No non c'è più il cappello Porca miseria Raga hanno tolto il cappello Porca vacca Ok due No 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 Brutto 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 Vai via Tre Mancano due oggetti Dai Ok ne manca uno raga Manca un oggetto Un oggetto manca A trovare Ok dai 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 Obiettivo completato Emo? Emo cosa devo fare? Mi do' girare i pollici? E raga Io ho un'idea di cosa fare Ora che ho vinto Perché Cioè porca vacca raga Non è che tipo mi Che cavolo è successo? Sei calmino zio? Ti iniziamo inseguendo la pula Ma veramente Eh boh vabbè Andiamo da Freddy Facciamolo contento No Mi ha fatto ricominciare Ma porca vacca Ma seriamente No non ci credo Quinto è tuo menu Vediamo Confermo quinto Ah ok ok Mi ha dato la vittoria Eh sennò col cavolo Che me lo rifaccio da capo Però ragazzi Per questo primo video di Tjok Reborn È tutto Noi ci vediamo In un prossimo episodio Arrivederci a tutti ragazzi Noc